signori miei addio collezionismo detta sinceramente non so capire se questo è un bene oppure un male e invece il covid manca un pezzo perché quel covid non c'era ancora stato il covid per fortuna meno male per fortuna ha ridato veramente vita al collezionismo ok finiva così finiva così semplicemente ok allora quella conversazione di cui parlavo prima che ho avuto con con guidi è stata la seguente guidi ha di tutto e di più lui è un collezionista di carte siamo misprint cioè stampate male la macchina le ha stampate male sono uscite tagliate male o unione di due carte il colore differente eccetera eccetera quindi stiamo parlando di roba unica c'è una nicchia molto particolare una carta che a lui non possono avere altri cioè questa è stampata in serie ce l'hanno mille persone diverse un miliardo di persone diverse quelle che a lui sono uniche quindi ha un valore di mercato un prezzo di mercato che è veramente unico inimitabile non pezzi unici esattamente eravamo a cena una sera all'old wild west dopo un torneo non mi ricordo neanche dove eravamo andati e a un certo punto siamo finiti a parlare delle collezioni che abbiamo ora la mia non si avvicina neanche alla sua cioè proprio lui ha questa grandissima passione per queste cose qui io sono molto appassionato però parlando così ci siamo finiti sul discorso di e poi quando moriremo o cosa ne faremo di queste carte che abbiamo un giorno mi disse una cosa che mi è rimasta impressa cioè questa venga nella bara con me e io gli ho detto ma scusami ma come cioè un giorno le vorrai rivendere avrai la volontà un giorno di rientrare di questi investimenti se no semplicemente stai prendendo dei soldi e li stai buttando in cose che non ti torneranno indietro e lui mi disse no no io queste non le rivendo queste sono mie sono uniche ce le ho solo io le voglio tenere io io li che saranno passati non so quattro anni tre tre anni e mezzo da quella conversazione io non potevo capire io gli dicevo guarda io invece nella mia testa un giorno quando ne avrò bisogno gli ho fatto un esempio gli ho detto quando vorrò comprare casa magari venderò le carte per ora oggi casa l'ho comprata le carte ce le ho ancora perché perché la mia testa è cambiata da quel giorno cioè è bello perché ci si evolve sempre bisogna sempre ricordarsi le cose e sempre ricordarsi che cosa è cambiato ci si evolve io li parlavo di giocare dicevo lo compro perché mi serve ci devo giocare devo andarci al torneo voglio confrontarmi con gli amici eccetera eccetera durante il covid io non non ho idea di quanti ordini abbia fatto online di carte fisiche non solo digitali perché poi lì ho iniziato a giocare anche a livello digitale per me il covid è stato molto positivo davvero per anche ritornare a sviluppare un po le mie passioni ma tantissime carte le compravo non sapevo se sarebbero mai state riutilizzate se potevo vederle cioè durante il covid sono uscite tantissime carte di magic che io continuavo a comprare ci sono state delle carte che quando mi sono arrivate o non si giocavano già più e quindi ce le ho lì ferme e basta o addirittura sono state bannate perché erano troppo forti però io ce le avevo le avevo già prese sono state lì sono state tra virgolette un investimento a perdere buttare i soldi dalla finestra però io l'ho sempre pensata sul giocare mai sul collezionare no non ho interesse non ho interesse nel fare compravendita perché finalmente ho capito che a me piace possedere cioè a me piace è una cosa che mi diverte averle averle io le voglio cioè se una sera mi voglio mettere qui a guardarmele mi metto qui me le guardo se una sera voglio sfogliare mi metto qui me le sfoglio anche solo l'idea di averla mi fa sentire più tranquillo perché sono cose che semplicemente che semplicemente mi piace ma questa cosa qui sapete come l'ho sviluppata con pokemon con pokemon il momento in cui mi sono messo lì a dire apro un secondo canale perché mi è venuta questa cosa qui ho iniziato a sentire l'esigenza di possedere delle cose lì mi è scattato e ho detto cazzo ma allora non è che io i soldi li sto spendendo anche se è una cosa che mi piace che mi diverte eccetera eccetera perché voglio giocarci e voglio averla questa cosa nel momento in cui ho sbloccato questa consapevolezza è stato un bel problema a livello economico perché poi sono andato ad alimentare no tanto questa mia dipendenza io fortunatamente non fumo non ho mai fumato quindi non ho mai speso soldi in sigarette per fare non mi sono mai drogato quindi non ho mai speso soldi in droga questi soldi sono stati dirottati completamente direttamente all'interno di tutte le mie passioni mi sono veramente reso conto di quanto in realtà io sia attratto dal collezionismo vi faccio un esempio finire terminare la prima edizione di pokemon il pokédex delle carte pokemon dal numero 1 bulbasauro al numero 151 mu per me è stato veramente una soddisfazione fuori dal mondo set base jungle e fossil unlimited non stiamo parlando di rarità allucinanti edizioni alte unlimited non è un problema in italiano alcune anche non non excellent non near mint alcune anche un po bruttine tipo il mio charizard che era quello che giocavo da bambino e dentro la collezione è lì però ci sono ci sono è stata una soddisfazione incredibile e in quel momento lì quando le ho messe tutte dentro l'album in fila dal numero 1 al numero 151 ho veramente fatto e ho veramente compreso che quello è il motivo vero per cui io spendo dei soldi e mi sono rivisto all'interno della definizione di collezionista che non mi era mai stata particolarmente affine tant'è che quando facevo anche la conversazione dicevo ma sì ma un giorno le venderò le carte e poi magari un giorno le venderò davvero perché non escludo niente però oggi l'idea di possedere determinate cose mi fa star bene io sono davvero grato tra virgolette al covid per aver risvegliato in tanti questa voglia di collezionare tant'è che non ci siamo mica limitati a questo perché dopo che cosa è successo oh cavolo non so più dove il mio gameboy color e cosa facciamo non lo compriamo il gameboy color lì dietro le coppe vedete dietro le coppe ecco cavolo non so più dove il gameboy advance che facciamo non lo compriamo il gameboy advance cavolo non trovo più pokemon bianco vabbè andiamo su vinte da comprare pokemon bianco dopo è un cane che si morde la coda e ho scoperto anche delle passioni che non pensavo di avere vi faccio due esempi banali sono sempre legati a pokemon perché pokemon è stata quella nicchia che mi ha sbloccato un pochettino quel lato collezionistico perché le magic le compravo dicevo sì cazzo ci devo giocare è certo che le compro ma le pokemon mica devo giocarci con le pokemon sono lì ferme non ci devo giocare per niente e allora anzi tre cose che in realtà sono due però va bene sono sempre state fighissime no le gradate io ho sempre detto wow che fighe le carte gradate ma finiva lì questa è stata la mia prima gradata in assoluto non è neanche una carta di particolare valore però è un valore affettivo per il pokemon e perché è la prima gradata cosa te ne fai? non ci giochi la tieni lì e quando l'ho preso ho capito non devo farci qualcosa l'importante è averla che è diversa il siled io mai ma davvero mai avrei pensato di potermi mettere qui a dire compro una cosa la tengo chiusa la tengo chiusa perché la voglio in collezione voglio che sia lì voglio che tra qualche anno poter dire cavolo ce l'ho ma non perché ci debba giocare debba sbustare eccetera ce l'ho ce l'ho e basta questo è stato probabilmente il più grande acquisto che potessi fare questo ho detto dato che sul secondo canale abbiamo aperti io credo quattro di questi ho detto ma perché uno che costa 50 euro non lo prendo e non lo tengo chiuso questo è sigillato con il suo plexiglass ok sigillato con ovviamente il cellophane più il plexiglass e questo rimane qui questo rimane qui tanto la collezione di 151 è finita e anche lì è stata una fortuna finirla io mi ricordo che mi sentivo in colpa perché non avevo ancora sviluppato l'idea che mi piaceva collezionare a me semplicemente è sempre piaciuto giocare che è diverso e mi sentivo in colpa a spendere dei soldi dire cavolo però sto davvero spendendo 100 euro per un charizard stampato nel set 151 che nemmeno mi piace particolarmente come immagine però lo voglio finire l'ho fatto ho pagato un po' di meno di 100 euro e meno male che oggi il set di 151 è scherzato io ora non so cosa costa un etb di 151 ma nemmeno mi interessa perché mi fa semplicemente star bene sapere che c'è che è qui che è qui che ce l'ho e che non c'è il rimpianto perché di rimpianto si parla di aver detto cavolo però quei 50 euro ce li potevo mettere invece oggi lo dovrei pagare di più perché chi come me ma come tanti di voi di ragazzi degli anni 90 sono cresciuti in quell'era in cui le cose erano disponibili vi faccio un esempio io mi ricordo che andavamo al mercatino al mare il giovedì sera c'era le bustine di di odissea di flagello di magic e le compravi a 4 euro le sbustavi lì dicevi no schifo 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 trovavi una fetch magari poi dicevi ma no ma una terra ma chi se ne frega della rara una terra oggi picchieresti qualcuno per avere una fetch foil di edizione quindi quelle cose che erano accessibili ed erano accessibili anche a dei prezzi contenuti oggi non le puoi avere a dei prezzi contenuti io non so quante bustine di pokemon abbia aperto ormai ho perso il conto cioè vi parlo del set base di jungle di fossi del team rocket ma sapete cosa darei oggi per avere un box team rocket anche quello praticamente l'ho finito anche in 5-6 carte pian piano andiamo a prendere tanto le collezioni al limited solo per averlo ma sapete quanto darei per avere un box team rocket ma mica perché lo voglio poi sarebbe bello vi dico sarebbe bello anche un giorno aprirlo magari questo fra 10 anni quando 151 diventerà il set che cavolo è introvabile io ho 5-6 no ho 4 confezioni di quelle con il poster così sealed e un etb sealed magari un giorno ci stiamo lì ce ne sbustiamo ma per ridere per divertire perché ci va di farlo semplicemente richi grazie mille per il decimo mese e quindi dove voglio andare a parare con questo discorso che tanto si parla sempre di soldi su internet quante volte abbiamo sentito parlare di soldi l'abbiamo fatto anche qui abbiamo visto eh quelle lì costavano 1000 euro qualche anno fa ora costano 2000 questo l'ho pagato x quello l'ho pagato y adesso costa z ne stiamo parlando ma non mi interessa cioè i soldi per me personalmente questa è un'interpretazione che deve essere ognuno deve avere la sua però personalmente i soldi sono il tramite per riuscire a colmare delle esigenze che possono essere qualsiasi tipo di esigenza da devo mangiare per sopravvivere a devo comprare una casa affittare una casa devo sopravvivere devo coprirmi devo acquistare una macchina un'automobile la benzina per andare al lavoro i vestiti da indossare bisogni primari più le cose che davvero senti di volere cioè il consiglio che voglio darvi è se voi volete questa penna che tra l'altro è la penna di guidi non l'avevo vista se voi volete questa penna cavolo se la volete e tutti vi dicono sì però che cazzo la compri da fare cosa te ne fai di quella penna ma voi la volete quella penna lì potete permettervela magari stringendo un po' magari questo mese devo rinunciare a una determinata cosa prendetela prendetela non abbiate rimpianti su questa roba perché il collezionismo o comunque gli hobby di questo tipo che una volta venivano visti in un certo modo oggi per fortuna possiamo dirlo anche con un po' più di libertà secondo me almeno personalmente con più orgoglio faccio questo perché mi piace mi ridi in faccia perché non sei mai stato in quel mondo non ne hai interesse dici ma secondo me stai buttando via i soldi ma sono cazzi tuoi problema tu non è un problema mio e poi magari ti chiedo come li spendi tu i tuoi soldi ah io compro una stecca di sigarette allora il coglione forse sei tu dal mio punto di vista quindi questo è il consiglio di soldi si parlerà sempre però quando si parla di queste cose il consiglio che vi do e non focalizzatevi su oddio quanto stai spendendo bensì su sei stato contento sei stato soddisfatto di aver fatto quell'acquisto è una cosa che rifaresti è una cosa che ti piace tanto mal che vada se proprio ti penti di aver acquistato questo box da 30 euro che magari oggi costa 50 lo rivendi poi Guidi dice se vendi non devi pentirti non devi ricomprare mai lì si apre un mondo perché su cosa vendere se vuoi vendere io per come sono fatto io difficilmente poi vado a vendere non significa che è impossibile però a me piace averle le cose sono lì mi piacciono e se un giorno dovessero tornare utili li andiamo a prendere ovviamente non parlo di ogni singola carta però è una cosa che mi fa piacere ed è una cosa che ho scoperto con il tempo quindi era una live per fare una chiacchierata di questo tipo qui quindi chiudiamo qui l'argomento soldi e chiudiamo qui anche un po' l'argomento collezionismo spero di avervi passato un pochettino di nozioni Enricchi non mi ricordo se te l'ho ingraziato per la SAM ma mi pare mi pare di sì dice scammato beh Melnik io collezionavo carte pokemon prime tre generazioni ma infatti guardate allora vi dico una cosa io sono anche contento che sul web su internet siano venuti fuori anche tanti canali che la guardano da un'altra prospettiva cioè oggi purtroppo che dico purtroppo perché sì lo voglio dire faccio l'esempio di pokemon io sono riuscito a riavvicinarmi al brand di carte pokemon perché è diventata una cosa virale e quindi da questo punto di vista sono contento anche se adesso non so dire il tempo che non compro carte pokemon perché era stata più quel momento in cui volevo fare determinate cose le ho fatte sono stato soddisfatto un giorno mi verrà voglia di completare Team Rocket lo completeremo mi verrà voglia di completare Gym Leader lo farò si spenderanno dei soldi non è un problema si farà quando se ne avrà voglia possibilità eccetera eccetera però è diventato virale con un problema secondo me cioè quali sono i contenuti che vanno esce il set x y z si sbusta per trovare la carta x y z è di una noia mortale cioè dietro quella roba lì non c'è niente non c'è emozione io credo che la cosa fondamentale per essere davvero contenti in questo mondo è avere l'emozione di fare una determinata cosa io mi ricordo aprivo le prime buste di 151 ed era una sensazione ero leggero perché ero tornato indietro nel tempo ero tornato bambino ero tornato quel Luca che le comprava magari quando andava con i nonni in edicola e diceva li voglio perché ci sono i pokemon li vedo in televisione e anche la carta comune di qualsiasi carta comune ce l'ho mi manca la posso scambiare erano belle belle lo stesso io vedo invece dei contenuti di gente che apre prende lancia lì che schifo che merda questo fa schifo non state amando il prodotto è quello che vi dicevo prima quando portate dei contenuti portate dei contenuti su cose che amate poi le opinioni giuste sbagliate che siano quello è un discorso a parte parlate di cose che amate se dovete fare il contenuto tanto per fare perché allora può convertire posso avere i numeri posso avere i follower posso avere il potere si parla di me avete delle altre esigenze è il tramite io che ho iniziato con FIFA e mi divertivo da matti con FIFA ho fatto 100k di follower con FIFA quando mi sono rotto il cazzo di FIFA ho mollato ho mollato ho detto non me ne frega più niente e mi sono assunto le responsabilità che derivano da questa azione e credo di essere stato forse davvero il primo su YouTube Italia a dire oh basta non faccio più quello di riferimento il format di riferimento voglio reinventarmi ma sapete quanti ce ne sono stati poi successivamente e quelli che sono arrivati a reinventarsi perché hanno trovato un'altra cosa che adoravano fare bravissimi perfetto meraviglioso ma ci sono quelli che oggi piangono 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 fanno i video in cui piangono perché io ho quella serie se non mi fai diecimila like a video non te la porto più ma stai scherza ma porta quel cazzo che ti piace se non passi un'emozione ragazzi se non passi un'emozione il contenuto è ma tu devi passare le emozioni tu devi creare empatia col pubblico piangono perché ha le supercar esatto esatto è quello cioè esaltarsi perché c'è il roxfoil dentro è meraviglioso ma che bello è ma che bello è cioè ripeto non è una carta che vale 2000 euro ha un valore sì non è un valore elevatissimo ma che bello è è una mint del 1997 in giapponese di Dark Charizard che è uno degli Artwork Charizard più belli ma realizzati cioè queste sono le cose belle secondo me sono le cose che ti fanno sentire felice contento sono pazzo ma sì ma come siamo pazzi tutti a modo nostro grazie a tutti Grazie a tutti.